Siamo con il consigliere regionale Maurizio Di Nicola, presidente della prima commissione bilancio affari generali e istituzionali della regione Abruzzo. Benvenuto. Grazie dell'invito, bentrovati. Grazie. Vorrei iniziare questa intervista proprio con chiederle qual è lo stato di salute dei conti della regione. È uno stato di salute che ci ha preoccupato evidentemente nel corso degli anni ma che stiamo cercando di gestire nel miglior modo possibile per restituire serenità alla comunità degli abruzzesi. Credo che sia un fatto noto che anche recentemente la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale hanno censurato il rendiconto dell'anno 2013 che era riferito evidentemente all'attività amministrativa della precedente giunta regionale. Stiamo in qualche modo recuperando una fatica antica e una difficoltà antica che parte dal momento in cui la regione Abruzzo si trovò a gestire gli scandali della vicenda sanità e però credo che pur in queste grandi difficoltà le strutture regionali, l'assessore Paolucci come assessore a ramo hanno dato prova di capacità. Che cosa sta accadendo? La regione Abruzzo in modo molto sfortunato si è trovata ad incrociare la fase di trasformazione legislativa che ha previsto un nuovo ordinamento contabile per le regioni proprio nel suo peggior momento storico per quanto riguarda la vicenda del bilancio. Questa congiuntura sfavorevole purtroppo lascia degli strascichi, si è trattato di fare un riaccertamento dei residui per poter entrare nella nuova contabilità mentre cercavamo di risolvere i problemi antichi di questa regione sottoposta a rilettura penalistica come direbbe il Presidente D'Alfonso e quindi abbiamo ovviamente avuto qualche difficoltà. Purtuttavia credo che siamo ormai al di là del guado, ci avviamo a mettere mano ai rendiconti 2013 ripensati così come la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale ci hanno chiesto, in realtà lo avevamo già fatto per il vero e quindi poi a far scivolare all'approvazione anche ai rendiconti 2014, 2015 e 2016 secondo tempi molto più celeri rispetto a quelli che abbiamo avuto nel recente passato. In qualche modo nonostante il disavanzo presunto che ad oggi ci troviamo a dover validare di 770 milioni di Euro, che è una cifra importante e che potrebbe in qualche modo creare paura. Ci sentiamo sereni perché attualmente la regione riesce a coprire con un ammortamento pluriennale, così come ci ha chiesto lo Stato con una legge approvata lo scorso anno, questo disavanzo in un periodo decennale eppur ovviamente dovendo fronteggiare una difficoltà operativa legata all'accontonamento di queste somme, credo che riusciremo a garantire quei servizi essenziali che servono alla comunità degli abruzzesi, ma soprattutto di riuscire a garantire le compartecipazioni per i fondi comunitari che sono le vere occasioni di sviluppo. Quindi tutto sommato finiamo questo riaccertamento straordinario, faticoso, spero in questo mese così come in qualche modo politicamente ci siamo impegnati a fare questo avvenga e poi ci rimettiamo di nuovo al giudizio della Corte dei Conti con la quale evidentemente va costruito un rapporto collaborativo perché solo da qualche anno il rendiconto regionale deve essere sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei Conti, così come invece era sempre accaduto per il bilancio dello Stato ed è un adempimento nuovo rispetto al quale la regione Abruzzo ha dovuto in qualche maniera abituarsi. Noi guardiamo con attenzione e con rispetto alle segnalazioni che la Corte dei Conti fa di volta in volta perché sappiamo che abbiamo bisogno di questa attività di pungolo e in qualche modo è anche auspicata, non ne abbiamo paura, anzi la cerchiamo con spirito di reale collaborazione istituzionale. Cambiamo argomento, INGV è approvazione di un progetto di legge per attività di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, ecco quando c'è ancora da fare in questo settore? C'è ancora da fare perché la regione Abruzzo ha questa caratteristica storica oltre che geologica, la comunità degli abruzzesi ha bisogno di sapere che gli amministratori regionali sono attenti a questo problema, noi abbiamo fatto un pezzetto di strada dando un contributo straordinario all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per consentire all'Istituto di proseguire quell'attività di ricerca iniziata nell'anno 2009, subito dopo il terremoto dell'Aquila, che è un'attività di approfondimento scientifico e di mappatura del nostro territorio affinché queste indagini ci aiutino a programmare le infrastrutture del territorio, a programmare l'urbanistica del territorio e credo che il Consiglio regionale ha dimostrato, grazie a questo contributo ma anche grazie ad un'altra serie di iniziative legislative a favore della protezione civile regionale, che è mutata la sensibilità del legislatore regionale verso questi temi ed è mutata in un percorso di miglioramento. Questo è importante non solo per garantire agli abruzzesi che noi siamo attenti alle esigenze di sicurezza dei cittadini d'Abruzzo, ma anche per restituire all'esterno dei confini regionali il messaggio che i turisti, coloro che sono curiosi di visitare la nostra splendida terra d'Abruzzo, possono venire qui anche in questa fase particolare che stiamo attraversando, dove il terremoto pare scuoterci in termini più costanti e quasi quotidiani rispetto agli anni trascorsi, ma poter venire qui con la certezza che si sta mettendo in essere tutte quelle misure di prevenzione, di mitigazione, di gestione di ogni tipo di emergenza perché abbiamo bisogno di recuperare anche un appillo turistico che purtroppo il terremoto ci ha fatto in parte perdere. Un'ultima domanda, incentivi alla fusione dei piccoli comuni, è stata approvata una legge in consiglio proprio per il miglioramento dei servizi e la razionalizzazione delle spese, a che punto siamo invece qui e cosa ha portato questa legge in favore dei piccoli comuni? Innanzitutto un innalzamento del dibattito, veri e propri percorsi di fusione formalizzati, ad eccezione fatta per quello che riguarda la nuova Pescara con i comuni di Montesilvano e Spoltore, non sono ancora incardinati, purtuttavia si è generato un dibattito soprattutto nelle aree interne, laddove insistono i comuni più piccoli demograficamente parlando, che credo a brevissimo porterà i primi processi di formalizzazione, di percorsi di fusione tra comuni. Questa occasione della fusione dei comuni, che non è la panacea dei mali dei piccoli comuni, ma è sicuramente un'opportunità da cogliere, la Regione Abruzzo ha voluto proporla con uno stanziamento importante di 20 milioni di Euro in un periodo pluriennale, perché è un dato statistico del quale dobbiamo tener conto il fatto che nel Nord Italia ci sono state nel corso degli ultimi anni e in particolare proprio in questi ultimi tre anni, numerosi processi di fusione da parte dei comuni. Quindi abbiamo messo in campo uno strumento che gli amministratori locali più avveduti e più intelligenti dal punto di vista della programmazione nel tempo stanno esaminando, stanno condividendo con le loro popolazioni e credo che di qui a breve metteranno in cammino anche come formalizzazione vera e propria. Noi saremo contenti di aver fatto questo servizio se riusciremo a vedere ridursi non il numero delle municipalità identitarie, perché le fusioni di comuni non fanno scomparire nulla in termini di identità, ma se potremo mettere insieme dei comuni che nello stare insieme trovano migliori condizioni di sviluppo, economie di scala, una maggior possibilità di essere interlocutori degli altri livelli di governo, perché in questo momento storico con i forti tagli dello Stato rispetto alle esigenze di personale degli enti locali e la necessità di attingere a fondi comunitari come la prima vera possibilità di sostenere lo sviluppo di questi territori marginali, l'avere delle strutture che siano dal punto di vista qualitativo e quantitativo adeguate a queste sfide, credo che sia un presupposto per poter innescare meccanismi di sviluppo. Verso questa direzione va la legge dei fusioni e siamo tutti in questo momento soddisfatti del dibattito in attesa che si trasformi in reale concretezza. Bene, con questo è tutto, grazie di essere stato con noi, buon lavoro. Grazie anche a voi. Grazie a tutti.